E' il secondo torneo nazionale Città di Pescara dal 3 al 6 gennaio, quale sarà l'obiettivo? Allora, innanzitutto l'obiettivo di questa amministrazione è dare l'opportunità di fare sport a 360 gradi, soprattutto per le fasce giovanili, infatti sarà un ante 14, sono 24 società, la buona parte di queste società vengono da fuori Abruzzo, comunque sono diverse società della provincia di Pescara, più alcune di Pescara, quindi vogliamo creare questo evento che probabilmente tentiamo dopo Via Reggio di creare un secondo evento a livello nazionale, un dei più importanti, legato anche ad un aspetto sociale, anche perché tra i vari sponsor abbiamo l'Avis per creare questo aspetto legato alla donazione del sangue, quindi ci aspettiamo una massima partecipazione da parte di tutti i cittadini e speriamo insomma che le cose possano andare al meglio. Dove si svolgerà? Nei nostri cinque campi comunali, quindi Zanni, Flacco, Donati, Gesuiti e San Marco, dal 3 al 6, la finale del 6, ci sono società importanti come Juve, Lazio, Andra, Salernitana, Taranto, sarà un bel momento proprio per l'insegna dello sport, del sociale con la partecipazione anche di tanti tecnici, alcuni giocatori in passato che sono state vere glorie anche della nazionale.